La biodiversità è un concetto su cui la Regione Marche sta puntando da parecchio tempo, questo è un altro progetto che si inserisce anche in questo discorso? Sì, questo progetto già è stato svolto lo scorso anno e quest'anno si ripropone, quindi impastare le farine negli istituti alberghieri è un modo per far conoscere agli studenti i nostri prodotti e soprattutto i nostri prodotti tipici e metterli in contatto con gli agricoltori custodi, che sono degli agricoltori che custodiscono delle specie che sono in via d'estinzione e quindi noi cerchiamo di recuperarle facendole cucinare, facendole conoscere agli istituti alberghieri, perché aumentiamo la consapevolezza negli studenti e quindi nei giovani delle varietà che si possono utilizzare nel territorio marchigiano e delle peculiarità che sono poi il nostro fiore all'occhiello. Una ricchezza insomma anche perché stanno cambiando i consumi sostanzialmente? Una ricchezza perché il consumatore è sempre più responsabile e sempre più attento a scegliere il prodotto e il prodotto in genere viene scelto proprio per il suo legame con il territorio e poi per come è cucinato e quindi questo esterimento fatto proprio con i giovani che diventeranno poi dei cuochi e quindi saranno quelli che porteranno i nostri prodotti in giro per il mondo, ci auguriamo con successo, è determinante. Quindi varietà e soprattutto la biodiversità che nelle marche per nostra fortuna è veramente molto ampia. Tipicità volentieri anche in questa circostanza mette a disposizione il suo contenitore per sublimare l'atto conclusivo di questo importante progetto che vede in prima linea i nostri istituti alberghieri che avranno l'opportunità proprio dentro a Tipicità 2018 in programma dal 3 al 5 marzo al Fermo Forum di testare delle esperienze importanti sotto l'aspetto professionale perché in occasione della premiazione del concorso sulla biodiversità entreranno a contatto diretto con prestigiosi chef stellati provenienti dall'Italia ma anche dall'estero. Avranno l'opportunità di un vero e proprio matching con il mondo del lavoro e quindi con le oltre 300 realtà produttive delle marche che sono presenti da protagonisti a Tipicità. Grazie a tutti.